9.50 Brignone, parere contrario Commissione e Governo, è aperta la votazione. Ci siamo? Iacono, è chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo al 9.51 Mantero, parere onorevole Silvia Giordano, prego. Sì, grazie Presidente per dichiarare il voto favorevole. Grazie onorevole Mantero a titolo personale, prego. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento prevede l'etichettatura per prodotti che abbiano un alto contenuto di acidi grassi saturi, di zuccheri liberi, di sali e di oli ritenuti dannosi per la salute come quello di palma con l'indicazione appunto in etichetta che l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità e gravi patologie. Purtroppo l'utilizzo di cibo spazzatura porta, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, porta ad un aumento del peso con tutta una serie di patologie correlate. Quindi crediamo che sia opportuno l'indicazione in questi prodotti, proprio che l'uso eccessivo può recare problemi alla salute. Grazie onorevole Mantero. Metto in votazione l'emendamento 9.51 Mantero. Parere contrario Commissione e Governo. Aperta la votazione. Nesci. Ce l'ha fatta? Sì. Ottobre in arrivo. L'acquaniti. Grazie. Grazie. Grazie.